E' stato siglato nella sede dell'autorità portuale di Livorno il protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e nell'area portuale che rilancia con alcune novità il vecchio protocollo. Cuore del programma è il piano delle attività per la sicurezza che entro novembre passerà al vaglio della cabina di regia presieduta dal presidente della regione. Obiettivo coordinare tutti gli enti coinvolti in materia di sicurezza, potenziare i controlli e formare lavoratori addetti alla vigilanza. L'aspetto più nuovo di questo protocollo è che si estende oltre lo specifico del porto, su cui non ci si deve mai dimenticare la responsabilità della sicurezza e proprio dell'autorità portuale. Significa ad esempio prendere in carico il fatto che le navi entrano nel porto di Livorno ma poi ovviamente proseguono e vanno anche verso la zona industriale e verso i depositi. Significa anche integrare la legge Seveso con la legge 81 e cioè mettere insieme sia i vigili dell'ARPAT che rilasciano le autorizzazioni per quanto riguarda gli impianti ad alto rischio soggetti alla legge Seveso con le competenze dell'Asle che riconoscono i comportamenti più appropriati per evitare i rischi. L'attuale piano operativo delle attività per la sicurezza che prevede anche specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro sarà approvato entro la fine del 2018.